ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario drenale informazioni commerciali titolare agrolavo spa concessionario agrolavo spa confezioni drenalo su 1 litro formulazione additivi per chilogrammi uguale prodotti naturali botanicamente definiti crataeva nurvula 4g boeravia diffusa 4g tinospora cordifolia 4g composizione sorbitolo prodotto della lavorazione delle piante bergenia spp ci per us rotundus desmodium spp asparagus racemosus piper nigrum piper longum zingiber officinalis indicazioni mangime complementare liquido a base di piante indiane altamente selezionate per favorire la funzionalità renale e delle vie urinarie del cavallo posologia distribuire in aggiunta agli altri mangini solidi o liquidi in ragione di 10 20 ml due volte al giorno fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato